buongiorno allora prima di tutto pollicione iscrizione e campanella che sono le cose importanti partiamo da veramente una cosa importante le ricariche allora potrebbero esserci stasera da notte i nostri soliti era il nostro gruppo di eroi della community dopo le due può cominciare a controllare per vedere se compaiono prima di tutto compaiono le rendicontazioni cioè elaborazione della cifra che viene caricata sulla carta e dopo circa due ore compaiono l'invio di disposizione apposta e non compaiono quasi mai simultaneamente perché vi dico dovrebbe perché non abbiamo avuto nessuna conferma ufficiale dall'inps l'unica cosa su cui possiamo basarci è un'informazione data dall'insider di mister lull e qualche con conferma qualche indiscrezione informale che mi hanno passato alcuni dipendenti in ma siamo a questo livello per cui ragazzi io stasera non ci metto la mano sul fuoco ci saranno le ricariche potrebbero effettivamente esserci il 28 l'esperienza precedente mi dice che tendono ad anticiparle e non a posticipare e facciamo riferimento ad esempio di settembre perché qualcuno ha detto ma le ha fatte il 28 peccato che settembre li abbiano fatte prima ma è stato primo l'ultimo mese dei percettori del rdc della primo gruppo cioè di quelli che hanno fatto la domanda alla nascita delle radici e quindi chiudevano i 18 mesi ma anche il primo mese in cui c'erano le decurtazioni semestrali chi se lo ricorda si ricorderà che l'inps ha fatto un casino tagliando a destra e a manca senza logica e quello che compariva erano cifre completamente sballate l'inps stesso confermò che le cifre erano sballate richiamo tutti i dati quindi sostituì la ricarica che era indicata con con quella normale perché i conteggi erano sbagliati e spostò in avanti le ricariche al 28 ma se avessero fatto un lavoro decente le ricariche erano il 25 chiediamo questo punto perché qui il problema è che se poi non va a guardare i siti io prima di fare il video me li sono anche guardati cinque siti uno addirittura metteva la ricarica il 27 una domenica tanto per dire quant'è libera e un altro citava come esempio quella cosa dimenticandosi completamente del casino che è avvenuto a causa dell'errore fatto dall'inps nel conteggio delle decurtazioni semestrali cioè l'avrà proprio dimenticato per cui fate un attimo mente locale ci potrebbero essere se non ci sono stasera vuol dire che compariranno nella notte tra il 26 27 e ci saranno il 28 certo che io sono diecimila volte più contento se ci sono stasera non solo perché mi ha dato il 28 accompagnare la lidia un po di problemi ma non è quello perché almeno la gente ce li ha e sta un po più tranquilla lo sapete che lo stress è sempre quello lì alto e una volta che puoi camminare almeno per respirare un attimo si sta meglio lo sappiamo tutti il problema è che ultimamente l'ips dal punto di vista comunicativo non è a zaccaruna neanche per sbaglio ma neanche a sforzo e quindi questi sono i risultati penso che ve l'ho detto dipendesse da metri dico andato far promesse all'udienza del senato se ci fosse un governo con gli huevos per dirla la spagnola l'avrebbe spedito fuori una pedata talmente forte da farlo di andare direttamente su nettuno ma siamo sempre qui manca anche il coraggio di mettere certe persone di fronte le proprie responsabilità e qui vediamo stanotte io ringrazio in anticipo chi stanotte si metterà a controllare fatelo sapere sia me che a elena poi ci penseremo noi due a a mettere un post e eventualmente poi a fare un video la mattina presto per informare gli altri ragazzi purtroppo è così l'imps sta dimostrando sempre più inefficace dal punto di vista delle informazioni in compenso continua a sfornare dei diote come l'ultima del meeting cioè della possibilità dell'incontro virtuale con un operatore utile cioè siamo sempre qui hai un sistema che è pieno di difetti che funziona male che è peggiorato rispetto all'era boeria e ce ne voleva e invece di mettere in mano le cose concrete introduci delle misure che sono sostanzialmente inutili o ovviamente visto visto l'andazzo saranno fatte coi piedi anche quelle io vi saluto ci sentiamo domani o più tardi vediamo ciao